Italiano. Relitti, esplorare la storia marittima delle acque del Pacifico di El Salvador. Intraprendi un viaggio sottomarino nel tempo, scoprendo come l'oceano Pacifico ha silenziosamente rivendicato le navi a largo delle coste di El Salvador. Una nave ha lasciato un segno indelebile su un subacqueo dedicato, dire Pocho è lo stesso che S.S. Douglas. José Roberto Suarez, affettosamente chiamato. Pocho è stato un vero pioniere nel campo dell'archeologia subacquea. Antoni Gaudi ha dedicato gran parte della sua vita alla sua grada famiglia. Con una svolta unica, El Pocho seguì le sue orme, tranne per il fatto che il suo tempio giaceva sotto le onde, rivelando il nome S.S. Douglas. Non è mai stato solo in questo viaggio straordinario. Nonostante i suoi notevoli risultati, El Pocho rimase umile. Non grediva un'attenzione eccessiva. La sua eredità dura, un don a tutta l'umanità. Fortunatamente, Sangue Nuovo ora bellisce questo campo. Spiccano nomi come Marlon e Scamilla, Roberto Gallardo e Herbert Erquicia. El Salvador ha coltivato il proprio talento, formando più di 40 archeologi interni dal 1995. L'archeologia subacquea ha fatto progressi significativi, documentando numerosi relitti. Ma molti altri rimangono nascosti sotto le onde. La letteratura salvadoregna ha opere pubblicate con dettagli intricati e precisi. Attualmente sono circa 10 relitti censiti. L'immagine sopra mostra è l'Ancon al Molo La Libertad, con Tito Ventura che ispeziona il parapetto. In passato, le piccole navi trasportavano passeggeri e merci al Molo, poiché le navi più grandi non potevano attraccare direttamente. Navi simili sono state utilizzate nel porto di Akaiutla, come mostrato nell'immagine 2 a PLCN 1 a 2. La visibilità a lungo le nostre coste non è così generosa come in altri oceani, il che complica il compito della ricerca. Chi può immaginare quanti relitti riposano nei fondali del golfo di Fonseca? Le condizioni in quella zona sono ancora più difficili. Aggiungerò ulteriori. Informazioni nella sezione letteratura. Assicurati di iscriverti al mio blog per ulteriori storie.